Io non lo sto, non so esattamente che cosa stia accadendo, però davvero sono tantissimi papà che ci chiamano, che hanno di questi problemi, che non possono vedere i propri figli. Io vorrei veramente che le mamme che ci ascoltano si mettessero una mano sulla prescienza. Noi scegliamo di separarci da uomini magari che non amiamo più. I nostri figli non la fanno questa scelta, la subiscono. Non è giusto metterli in mezzo. Un bambino deve comunque poter sempre frequentare sia la mamma che il papà per poter crescere sereno. Avete sentito anche in questa storia una mamma che lo maltratta fisicamente, sempre che sia vero, non so, così sembrerebbe dagli atti. Un bambino a cui viene vietato di vedere il padre, un bambino che viene portato in tribunale e deve dover testimoniare contro uno dei genitori. Credo che sia veramente una crudeltà che nessun bambino al mondo dovrebbe mai vivere. Queste un bambino a cui viene portato in tribunale. Grazie. Grazie. Grazie.